terza a zero a zero a uno bravo Marco sempre in mezzo terza continua vrr 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 di giappolo vai dai non c'è arrivato un po' più veloce già da sotto Francesco da sotto un pochino più brillante metti sull'antifurto vieni qua vieni qua che tu sei veloce che tu sei veloce aiuto questa settimana dopo qua c'è già uno che cercava aiuto qui già c'è questo è già il buco delle balle del Marco questo si chiama così frangi secondo a sto punto no minimo così vai bene